Dottore, c'è uno sbaglio. Questa è la nuova infiamiera. Bene, bene, bene. Che bella visione. Bene. Sei assunta. No, guardi, io sono Andrea. No, per me sei assunta. Venga, gli faccio vedere la casa. Ma, dottore, pazienti là? Quelli non hanno bisogno di cure. Morano da soli. Venga, sti, va. Venga avanti. Questa sarebbe casa e studio comunicante. Che comodità. E tu diventerai una della nostra famiglia. Questa sarebbe la cucina. Da là ci abbiamo il salotto. Questo è il coritoio. Questa è la camera dei bambini. Quella è la camera mia. Quella sotto è mia moglie e quello sopra so io. Questo è l'altro ingresso dell'abitazione. Quella è mia figlia. Quell'attaccato deve essere uno nuovo. Non lo conosco. Marisa! Ma chi è quel disgraziato? Non lo so, è salito con me in ascensore, ma non lo conosco. Ah, sì? La vogliamo far finita con queste cose? Diggielo tu, papà. Io non posso. La mamma non vuole che parlo con gli strani. Uè, che? Ma che ci mettiamo pure a discutere. Sono bambini.